Buongiorno, sono Francesca Spadafora, ho 23 anni e abito a Bresso. Sono diplomata in Economia, Finanza e Marketing. Ho maturato un'esperienza di 3 anni nel settore beauty in aziende internazionali. Ho anche svolto uno stage come segretaria amministrativa, che mi ha permesso così di conoscere una nuova realtà aziendale con la sua organizzazione. Ho deciso di frequentare il corso di receptionist con competenze linguistiche, offerto da manager SRL. Che mi ha permesso così di conoscere questa professione con tutte le sue sfaccettature. Perché mi permette di unire così le due cose che mi piacciono di più, come la cura del benessere della persona e la loro parte organizzativa. Mi piace molto ascoltare le persone e soddisfare i loro bisogni. Voglio essere un punto di riferimento nell'azienda e nel fornire informazioni utili nel mondo del benessere. Vi rimando al mio profilo LinkedIn, Francesca Spadafora. Grazie per l'attenzione.